A risalve servitori, ben ritrovati nuovamente sul canale con la posta retrograda. A quanto pare ultimamente ci avete preso gusto a mandarmi cose e perciò questo significa molti nuovi video fuori programma con la posta retrograda. Siete contenti? No? Bene. Però a differenza di queste ultime volte, quest'oggi è qualcosa di totalmente inaspettato perché mi sono ritrovato questo pacchetto di ridotte dimensioni arrivatomi nella casella di posta. Peraltro lì per lì pensavo che fossero figurine che avevo ordinato e che sono in ritardo pazzesco quindi speravo fossero quelle. Invece era una gradita sorpresa di Jacopo che è un servitore del canale che già una volta ci mandò le sue carte preferite, tra virgolette, alcune carte insomma che gli piacciono. Me l'ha scritto anche fuori nel pacchetto. Giusto qualche carta di cui apprezzo l'artwork, immagino. Una scusa per posta retrograda. Bene. Quindi ringraziamo Jacopo che ci ha fornito nuovamente una scusa per un video della posta retrograda. Intanto ci ha messo insieme le carte con l'elastico, cosa molto vecchia a scuola. Ottima, come sempre. E ci sono delle Pokémon in mezzo, ma non so se sono soltanto per proteggere il malloppo di Yugi o cosa. Comunque vediamo di che si tratta. Beh, intanto c'è una Magic nuova pronti alla rissa. Beh, il titolo non è nemmeno male, però purtroppo le carte nuove di Magic sono sempre poco accettabili. Questa è una Pokémon vecchia, palesemente, dalle condizioni, ovvero... Oh beh, un Meo Team Rocket. Che sì, penso che siano messe qui più che altro per proteggere le Yugi. Vediamo invece cosa c'è di qua. C'è sempre una Magic, ovvero ricercata numero uno. Sì. Altra carta nuova, quindi. E altra carta vecchia di Pokémon, ovvero un Totodile. Vabbè, finché è roba vecchia, tutto va molto bene. Cominciamo a vedere un po' di che si tratta sta roba di Yugi. C'è diversa roba, effettivamente. Cominciamo da questa. Ah. Ah beh. Questa la conosciamo abbastanza bene. È Scontro ad armi pari, detta anche la carta più forte di Sei Samurai. Sì, che in effetti, a parte le battute, è bella come illustrazione. Vabbè, in effetti è anche molto forte, voi lo sapete molto bene. E però non è da Rarity Collection, ma è dallo Structure, credo quello orrendo delle Trapolatrici. Sì, quindi praticamente questa era l'unica carta guardabile di quel mazzo. Comunque carina come carta. L'avevo anche giocata per un periodo nel mio mazzo scemo, quello avete capito quale. Già l'altra volta Jacopo ci aveva mandato un po' di carte a lui gradite, che effettivamente erano abbastanza belle, diverse, quasi tutte, della tutta. Quindi gradiremo probabilmente vederne qualche altra. Vediamo il prossimo. Eh vabbè. Qui ci piace vincere facile, un drago armato scuro. Purtroppo, vabbè, la rarità è molto sbagliata. Però è successo che l'hanno stampato effettivamente in questa rarità e soprattutto con questa grafica. in uno Structure PD, che ve lo dico io per cosa sta, però no, credo che stia per Pendulum qualcosa, quindi proprio, ecco. Quindi quell'abbreviazione lì mi viene proprio spontaneo dirla. Però è pur sempre un drago armato scuro, quindi sempre molto gradito. Prossima figurina, ovvero, oddio, Demone Magichiave Transformine. Questa, se riuscite a dirla, siete proprio dei draghi, ma a parte, vabbè, essere ovviamente imbarcata come tutte le carte nuove. Ah oddio, ma è da bode, una super da bode che non ho mai visto, incredibile. Il set vituperatissimo che mi ha fatto perdere, non dico nemmeno quanto, e lasciamo perdere. L'unica super guardabile, probabilmente, un Demone giapponese base, abbastanza. Effettivamente è guardabile, devo dire, e quindi ovviamente non lo trovai nel mio spacchettamento di bode, mi sembra giusto e ovvio. Certo che comunque queste carte, eh, come imbarcatura siamo sempre messi bene, devo dire. Tra l'altro il video di Jacopo, cioè che Jacopo ci fece fare la volta scorsa, mi è venuto in mente proprio con lo scorso video di posta, quando, tirando fuori la roba di Cristiano, c'era a un certo punto lì quel drago Pendragon, qualcosa, che ricordava infatti che me l'avesse mandato Jacopo, e quindi ci avevo proprio ripensato effettivamente. E guarda un po', Jacopo pure ha pensato di rimandarmi qualche altra carta, quindi è stato un bel pensiero, come sempre. Ah, qui abbiamo un golem ingranaggio antico megatonico, non lo so come sia in italiano di preciso, palesemente tarocco, ovvero americano, perché madonna guardate i colori allucinanti, già dal dietro infatti mi sembrava un po' strana. Davanti peggio che peggio, comunque, vabbè, le americane moderne sono così. Bordo blu praticamente, già che il bordo è più chiaro, no, nelle carte nuove rispetto a quelle vecchie, ma quelle americane veramente hanno il bordo blu, letteralmente. Poi vabbè, il nome è Viola, che in una fusione uno direbbe, ci dovrebbe anche stare bene il nome Viola, no? In una fusione è bene? No, non ci sta comunque bene, perché è orrendo lo stesso il nome Viola. Tra l'altro, questa è un'americana, quindi è un Viola veramente molto poco Viola, quindi comunque non ci sta bene lo stesso. Però comunque il golem, quattro zampe, quattro braccia, eccetera, in cazzado nero non è male, devo dire. Poi andiamo avanti con la prossima, insetto grande finale. Questo invece l'avevo trovato, se non sbaglio, su PHHY, quando lo spacchettai. Sì, anche questo è un'evoluzione di un vecchio mostro, ovviamente l'insetto finale, no, l'insetto, vabbè, la grande falena perfetta, o giù di lì, insomma. E vabbè, a me in realtà non mi fa troppo impazzire invece questo, perché è un po' troppo colorato, un po' troppo allegro. La falena vecchia, un po' più pupa, un po' più basilare invece, questa botta un po' troppo arcobalenante, però vabbè, è pur sempre un mostro vecchio rifatto. Qui abbiamo una senza bustina che è Raijin, la stella ferma fulmine, mai visto, da BLCR. Di solito ste fusioni mezze generiche, comunque non di archetipo, diventano buone soltanto se sono evocabili di superpolimerizzazione, quindi non so, questo vuole un guerriero luce, livello 5 superiore, un terra guerriero. Mi sa che è un po' troppa roba strana, vabbè, il testo non è possibile che io lo legga, e l'illustrazione non mi fa eccessivamente impazzire, ma sarebbe una specie di Guilford, forse. Guilford il fulmine rifatto giù di lì, forse. Non lo sapremo mai, come non sapremo mai perché sia l'unica carta senza bustina. Boh, forse era quella che stava meno simpatica a Jacopo, chi lo sa. Il prossimo è un drago fiamma nera, questo, vabbè, è da TOC, ma se non sbaglio è uno di quei draghi che c'era negli structure, quelli nuovi, che per voi saranno vecchi, vabbè, comunque quelli con lui e un altro tizio, luce qualcosa, luce pulsar, forse. Cioè questi non sono malissimo, dai, sono abbastanza guardabili tutto sommato. Chissà se c'è anche il luce pulsar, allora no. Però c'è Cyberombra Gardner, Oda, CDP, una vecchia super che c'era anche Ultimate, essendo quel periodo lì in cui facevano le Ultimate di qualsiasi roba, e niente, questo coso diventava un mostro quando veniva attaccato, copiava l'attacco e difesa del mostro attaccante. Applicazioni nel gioco particolari non credo ne abbia mai avute, però comunque è una carta abbastanza simpatica, quantomeno è vecchia, ha i colori giusti e niente stronzate. Passiamo alla prossima, ovvero un rituale strano, nuovo, palesemente, chiamato Evigischi Tetrorko. Segreta d'arsenale nascosto, come diversi altri Evigischi, Evigischi lì, quella gente lì, insomma. E vabbè, brutto in culo non lo è, devo dire, non è bruttissimo. Tizio pescione, mezzo tritone, non lo so, roba del genere. Comunque dai, non è orripilante, direi. Poi la rarità segreta fa migliorare sempre anche qualsiasi cazzata del moderno, quindi figuriamoci. Poi, ah, un altro Urko Evigischi, questo è dell'anima, però, sempre una specie di tritone. Mezzi tritoni, mezzi draghi, non sono proprio bruttissimi, magari qualche colore un po' fuori posto, però non so niente male. Qui ce n'è un altro ancora. Levianima, invece. Dov'è la testa? Ah, qui. Beh, anche questo, devo dire, non è orrendo. Forse è anche il più bello dei tre finora. C'ha anche un po' di dettagli in più nello sfondo, insomma, che lo rendono un po' più bello, devo dire. Sì, niente male. Poi il prossimo... Ah, ok, questo è... Risveglio dei posseduti, grande inari di fuoco. Sarebbero lì le bestie che accompagnano le tizie, le ammaliatrici, e questo, quello fuoco. Nello specifico, una volpe di fuoco, più o meno, o giù di lì. L'evoluzione dei volpe di fuoco, forse, quella vecchia, quella abbastanza inutile da RDS. Ci saranno anche gli altri? Sì, qui c'è l'arcidemone, come si chiamava? Sventuratissimo arcidemone, giustamente. Il primo era l'arcidemone lì della sventura, e questo è sventuratissimo. C'è proprio una sfiga, quasi pari alla mia, con il dado con Cacciatore Cecchino. Poi ce ne saranno altri? No, perché giustamente gli altri sono brutti. Quindi, questo è Misterion, la corona del drago. Si capisce qualcosa? Insomma, va a vedere. Allora, ok. Tizio lassù, che sta sopra... Ah, vabbè, questo è proprio il faccione... Il sorrisone incredibile di un drago, proprio. L'incantatore più un drago, papiro, che non leggerò mai nell'universo. E, vabbè, dai, non è malissimo, anche se l'idea è praticamente quella del Cavaliere Signore dei Draghi, no? Il classico cavaliere che cavalca draghi, però, vabbè. Ci può stare comunque. Abbiamo un altro po' di figurine, vediamo di che si tratta. Il prossimo, vabbè, è Guardiano e Athos, questa super da Draghi della Leggenda. La trovai anche io, credo, un po' di volte, quando aprì Draghi della Leggenda. Carta che apparteneva, vabbè, sì, all'arco quello lì, di Draghi della Leggenda. E, comunque, è uscita anche, in realtà, in Sovr, come Secret, quindi persino giocabile in Edison. Qualche volta ho visto qualche mazzo matto, effettivamente, che giocava questo accrocco. Andiamo oltre con, ah, vabbè, qui, andiamo sul facile. Abbiamo Abbandono, in inglese raro, da, ah, da collezione Yugi. Non sapevo assolutamente ci fosse, anche perché le carte a collezione Yugi è sempre un po' difficile vederle. Comunque, quanto pare l'avevamo fatto raro, e sicuramente raro da vedere e da trovare, quindi, anche se è una delle sue rarità minori, è sempre Abbandono, è sempre interessante vederlo. Non è Abbandono con tre B di Sovrano della Magia, però ci sta bene lo stesso. Poi si prosegue con Costellazione Virgo. Virgo? Cos'è? Cioè, dire lo Zodiaco. Più o meno, in effetti, sempre Costellazioni si parla. Questo, tutto quell'archetipo lì con le Costellazioni, bla bla bla, è relativamente vecchia, infatti i testi sono ancora abbastanza leggibili, però comunque nuove per me. Proseguiamo con un'altra, questa sembra anche un po' cosmentata, probabilmente è abbastanza vecchia, in condizioni nostalgiche. Vediamo di che si tratta. Ah, sì, abbastanza vecchia, Dragobianco, Chiblu, Maligno. Specifichiamo che per me i maligni sono nuovi, comunque, o comunque, boh, non mi ricordo se c'erano forse su Tag Force quelli che giocavo io, ma mi sembra di non averli praticamente mai visti, sicuramente non ci ho mai fatto un mazzo, quindi per me sono nuovi. Comunque, era da dpkb questa versione ultra, condizioni, come già detto, nostalgiche, molto bene, come piace a noi. Sempre in Draghi Bianchi si parla, però carta vecchia, rarità ultra vecchia e tutto quanto, chiaramente, è molto ben accetta. Passiamo alla quarta ultima, vediamo di che si tratta stavolta. Chi è? Oddio. Imperatore Magiugher Z. Ah, un altro Magiugher Z. Certo, il soggetto non è male, essendo il demonone basilare Magiugher Z, super evoluto, incredibile, anche con lo spadone adesso all'improvviso, però certo che i colori, né? Si poteva fare qualcosa di un po' più sobrio, un po' più oscuro più che sobrio, cioè, sempre tutti questi colori, tutti mezzi allegri, questo rosso sfavillante, insomma. Guardate quelli vecchi e capirete cosa intendo, ovviamente comunque non è male, perché è pur sempre un Magiugher Z, anche se rifatto. Poi, terza ultima, eh vabbè, qui si va sul facile, è un'allumina da Lodd, archetipo tra i migliori dell'universo, come tutti voi ben sapete, quindi anche se illumina non è, ovviamente, tra le mie preferite dell'archetipo, però sai. È molto forte, quindi sai, quando ce l'hai in mano sei abbastanza contento, tra l'altro centrata in maniera come piace a me, eh, abbastanza fanculo verso destra, con pista d'atterraggio qui e strisciolina qua, niente male, devo dire. Anche sotto e sopra, tra l'altro, sì, niente male. La penultima, questa è sempre in busta blu come la prima dall'altra parte, qui abbiamo, ah, il tizio psichico, evocatore di tempeste. Questa carta ha sempre avuto un effetto abbastanza interessante, perché praticamente non fa pescare più l'avversario, solo che quando viene distrutta, vabbè, dall'effetto di una carta, quindi deve comunque essere distrutto tutto quanto, però prendi danno, pare l'attacco originale suo, quindi non è proprio così bello farlo. Anche perché l'effetto di una carta può essere anche la tua, cioè, si sa mai, ti fai un torrenziale, ti chiappi pure 2.300 di danno, non è proprio un granché. Comunque è uno dei primi psichici da CSOC e quindi mi sovvengono sempre alla mente ricordi di quel periodo con, appunto, i primi sincro, i primi psichici vari. L'ultima carta, in busta blu, non lo direste mai, io l'ho già vista perché era all'arversa prima, ma è un altro scontro ad armi pari, super inglese, SDBT, bla bla bla. Si finisce come si è iniziato, quindi andiamo a vedere le figurine che a me sono piaciute maggiormente, o che comunque mi piacciono un po' di più delle altre, anche se devo dire che erano tutte abbastanza accettabili, barra anche belle sto giro. Vediamo un po', quindi, quel paio di scontro ad armi pari, Cyber Ombra Garna, comunque, carta vecchia, sempre gradita. Abbandono, in modalità che non avevo mai visto, che non ne conoscevo manco nell'esistenza, raro da collezione Yugi. I cosi, gli vichischi lì, con lui che mi sembra il più bello, poi il drago bianco, chi blu, maligno, vecchio, bla bla bla, eccetera, e per ultimo, anche se la rarità è infima, però, drago armato oscuro è pur sempre drago armato oscuro. Sicuramente, come sempre faccio con le carte che mi mandate, terrò qualcosina delle carte che magari mi piacciono di più. Voi servitori, invece, se volete fatemi sapere nei commenti quali sono le figurine che avete più gradito e se vi è piaciuto il video in generale. Ringraziamo nuovamente Jacopo per tutto il malloppo e per l'occasione di fare un nuovo video di posta retrograda e io vi do appuntamento alla normale programmazione del canale. Distinti saluti!